Mi chiamo Federico e sono un artigiano e come ogni piccolo imprenditore, quando un cliente non paga una fattura, iniziano i problemi. Anche io mi chiamo Federico. Beh, in effetti siamo esattamente la stessa persona, solo che lui ha scelto di fare le cose diversamente da me. Pronto? Buongiorno. Senta, abbia pazienza. È passata una settimana, ma quella fattura? Eh, ma è passato un mese! Ma, insomma, non vorrà mica che vada per avvocati. Pronto? Das assicurazioni tutela legale? Ah, quindi ci pensate voi a stare incollati al cliente? Buongiorno. Questa è la fattura che deve pagare da un mese il signor Federico. Buonasera. Si ricorda di questa fattura? Avvocato, mi aiuti? Non si preoccupi, quindi portiamo in tribunale. Salve. È sempre un buon momento per pagare una fattura. Va bene, va bene. Pagherò tutto. Tutto. Pronto, Das. Buongiorno. Ah, evitiamo la causa. Ottimo. No. 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 Grazie per la visione!